Comunque raga, i bergamaschi hanno una tempra, porca miseria. Sono sempre attivi, sempre, sempre. Anche quando vanno al bar a far colazione alla mattina che bevono il caffè, non è che lo bevono seduti loro, no? Lo bevono in piedi e appena scende giù l'ultimo goccino, uno guarda l'altro e fa Il bergamasco sta male, soffre, viene ferito nell'orgoglio quando il suo datore di lavoro lo guarda negli occhi e gli dice Da oggi sei in ferie, due settimane. Guardatelo anche al mare, osservato, avete mai visto un bergamasco in spiaggia, eh? Tutti che si riposano prendono un sole sui lettini, no? Lui fa avanti e indietro, avanti e indietro. Una volta ho visto un bergamasco guardare i bambini che stavano facendo il castello di sabbia e digli Bambini, anche quel castello di sabbia lì non è mica a posto, non vedi che va tutto a destra? Devi metterlo a posto con la cassuola, a ghina imparano, va fuori, me, me, me